Bene amici, benvenuti a un'altra puntata di Review Flash Abbiamo un Meizu M2 Note e un Pro 5 Perché li ho voluti mettere a confronto? Ma fondamentalmente sempre per domandarci un po' la stessa cosa Una domanda che ci facciamo spesso in questi ultimi tempi Vale la pena spendere 5-600€ per un top di gamma rispetto a un medio di gamma che ne costa 180 Un medio di gamma tra quelli che funzionano meglio Ma scopriamolo insieme Parliamo prima di tutto di materiali, di come stanno in mano questi due telefoni È vero, qua abbiamo materiali tra virgolette che dovrebbero essere più premium Metallo, ma è molto più scivoloso questo Pro 5 in mano Vedete se faccio così come scivola Mentre l'M2 Note è vero, è plastica Però ha un aspetto più fresco, più giocattoloso A me non dispiace e soprattutto guardate come sta in mano, che grip fa I display, uno è un 5,7 pollici AMOLED L'altro è un IPS Devo dire un po' più oleofobico quello del Pro 5 Rimangono un po' più limitate sull'M2 Note Grossa differenza la fa il sensore di impronte digitali Sempre ottime le gesture di Meizu Che consentono di accendere e spegnere il terminale Semplicemente dal tasto centrale Però con il Pro 5 teniamo cliccato E vedete, oltre all'accensione ce lo sblocco Mentre con l'M2 Note no, bisogna o mettere un codice Beh sapete meglio di me tutti i modi per proteggere i vostri Android Utilizzo quotidiano Allora vi ho detto già della scivolosità Quindi in mano, a una mano è meglio utilizzare l'M2 Quando andiamo a utilizzare i programmi E lo vediamo subito Apriamo da una parte o dall'altra il gestore delle pagine Facebook Apriamolo prima di qua e poi di qua Vedete, l'apertura è più o meno Vedrete, contemporanea Non ci ha messo molto di più M2 Note Con il suo ottimo processore Mediatek È un processore LMT6753 Che veramente ha risuscitato Ha salvato molti telefoni Gira bene praticamente su tutti i telefoni che lo montano Ma vedete la fluidità quotidiana È praticamente la medesima Cosa cambia? Qua monta la Flyme 4.5 Qua siamo arrivati alla 5 E devo dire che ha qualche chicchettino in più la 5 La preferisco decisamente Giustifica quel delta di euro che ci sono tra l'M2 Note e il Pro 5 Ma non posso dare una risposta in assoluto Per chi ama le fotografie Eppure M2 facendo belle foto Sicuramente il Pro 5 le fa meglio Le fa a livello di Dei camera phone top di gamma Non dei top camera phone Ma comunque le fa decisamente bene Meglio dell'M2 Quanto meglio Diciamo un 30% Valutate voi se questo 30% vale il delta del prezzo Apriamo un attimo Real Racing Così vi faccio vedere a potenza pura Questi due telefoni come sono messi Qua 3 o 4 giga di RAM Qua 2 giga di RAM Entrambi sono dual sim Entrambi con l'espansione per l'SD Opzionale si va a perdere una scheda SIM Rispetto alla memoria che devo mettere in più Vedete la velocità di caricamento del programma di Real Racing Li ho fatti avviare nello stesso momento Devo dire che il Pro 5 ha un audio decisamente migliore Sia qualità telefonica Sia anche come ascolto in cuffia Veramente potente anche il mio voce E' arrivato prima il Pro 5 Adesso veli calibro Tocchiamo per continuare Ok Tac Balletto del destra sinistra centro Ok Tocchiamo per iniziare Ho toccato contemporaneamente i due telefoni E adesso guardiamo quale dei due arriva prima Per quanto riguarda la batteria Sono due telefoni che non vi daranno preoccupazioni Sono due telefoni che non riscaldano particolarmente Vedete il frame rate A parte che mi sono schiantato sia di qua che di là E' leggermente superiore sul Pro 5 Ma è comunque giocabilissimo anche su M2 Note E allora vediamo a quale comprare Sinceramente trattandosi di telefoni così orientali Con un supporto magari non proprio eccezionale Per quanto riguarda la garanzia Per quanto riguarda un sacco di aspetti Io risparmierei e comprerei questo M2 Che comunque va benissimo Per quanto riguarda invece l'affidabilità La diciamo gradevolezza di utilizzo Il Pro 5 per quanto riguarda il software Mi è piaciuto tanto Anche perché anche con le versioni beta del software Non è mai andato in crash Non ha mai avuto instabilità Vi faccio un esempio Bluetooth Col Pro 5 nessun problema di abbinamento Mentre con M2 Note lo stack Bluetooth Magari qualche problemino ce l'ha Con qualche wearball Ho fatto fatica a collegarmi e a sincronizzare Insomma siamo sempre lì L'eterno dilemma Spendo tanto per un top di gamma Spendo poco per un medio di gamma ben funzionante Non posso rispondervi io Perché sono le vostre esigenze Che devono dirvelo Però in questo caso io prenderei L'M2 Note Un saluto da Andrea Galeazzi Punto com Un saluto da